Amici, sta arrivando un nuovo governo e si ricomincia a parlare di digitalizzazione. Allora, prima ancora che si rinizi con i vari ministri, sottosegretari all'innovazione, voglio ricordare in generale che non basta un computer o un software per poter parlare di digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Perché digitalizzare è un processo molto più complesso. Digitalizzare la pubblica amministrazione dovrebbe tenere in considerazione elementi fondamentali come l'immodificabilità, l'inalterabilità e l'anonimizzazione dei dati. Come ho già detto in un video parlando dei concorsi pubblici, si pensa a volte che solo fornendo un pc o una connessione a internet o un software si può dire che sono stati digitalizzati i concorsi. Però no, non basta. Bisogna garantire meritocrazia ed equità e bisogna ripensare l'intero processo di gestione dove l'elemento umano non dovrebbe esistere, se no che digitalizzazione è? Se c'è una persona il cui compito è di controllare e distribuire le credenziali ai candidati, il concorso allora non è digitale, perché l'errore umano o l'interferenza umana potrebbero compromettere la genuinità di questi processi. E allora tanto vale utilizzare la carta e la penna, dove alla fine ci sono le stesse problematiche. La digitalizzazione deve essere costruita in modo da evitare che ci debba essere il controllo umano, perché a volte controlla, a volte controllicchia. E' per questo che metodi come il proctoring, a mio parere, non funzionano. Il proctor non è in grado di capire se il candidato stia barando oppure no, perché oggi le tecnologie consentono di aggirare piuttosto facilmente sul controllo. Peraltro molti degli algoritmi che hanno inventato per riconoscere eventuali azioni fraudolente perfino non sono ammessi in Italia per legge. Anche i concorsi in presenza, in cui si forniscono le credenziali per accedere alla prova, è un vano mica bene. Siamo di nuovo lì. Perché questo vuol dire che qualcuno ha creato o comunque è in possesso delle utenze e qualcuno potrebbe teoricamente interferire col processo di anonimizzazione. L'uso di username e password rappresenta un elemento un po' confidenziale, no? Però non è che garantisce l'anonimato, perché si può assegnare quest'utenza o quell'utenza e favorire ad esempio l'amico che svolge il concorso. Ma non solo, gli stessi candidati potrebbero scambiarsi le utenze, ma chi lo sa, sfuggendo quindi al controllo del vigilante o magari del componente di commissione, insomma, magari mentre è in coda per accedere all'aula del concorso. Quindi digitale vuol dire digitale, non mezzo digitale, persona digitale. Digitale! Prevedere quindi che ci debba essere una persona o un controllore a vigilare e gestire le cose, non è che lo rende digitale, anzi, perché ci sarà sempre la possibilità di blefare e la soluzione non può essere un individuo umano, perché questo potrebbe compromettere l'intero processo, uno spostino di qui, uno spostino di là e tac. E allora come si può fare per garantire meritocrazia, equità, anonimato e sicurezza nei concorsi digitali? Allora, esistono metodi totalmente digitali, esistono, sul serio, come per esempio assegnare tablet adottati di sim, abbinati univocamente ai candidati tramite l'impiego di braccialetti, con QR code, per esempio. Così il concorso si svolge in modalità offline, ma non c'è la consegna delle credenziali e tutti i dati vengono conservati in maniera criptografata, dove non c'è l'umano che sa chi ha che cosa. Questo è digitalizzare la pubblica amministrazione, che dovrebbe tenere conto delle tecnologie che ci sono oggi a disposizione, invece di continuare a usare la carta e gli umani come verificatori, perché, spiace dirlo, ma in questo caso sono molto meno affidabili di un algoritmo che cifra, che protegge, che insomma non può essere complicchiato. Riflettiamo.